è che c'è sotto il sasso ma se era un po' di qua lo prendevi meglio basta Roby tira giù davanti e vai tira giù davanti giù ancora ma tanto c'è già il solo poi quando la fai un po' di qua si scava dopo basta andiamo dai così è così oh 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 oh